Questa specie di Black Friday primaverile di Amazon si sta dimostrando ricco di sorprese e di ottimi affari, grazie alle migliaia di offerte disponibili. In questo video ho selezionato 10 accessori tech che vale la pena di considerare proprio per le offerte interessanti e i prezzi ai minimi storici in occasione della festa delle offerte di primavera Amazon. Più che altro sarà una lista con una breve descrizione del prodotto selezionato, dove potete vedere il prezzo scontato in rapporto ai costi precedenti all'offerta. Come sempre trovate i link per raggiungere queste offerte direttamente qui sotto in descrizione. Mi raccomando se non sei ancora iscritto al nostro canale Telegram fallo subito, perché è il luogo da cui condividiamo le migliori offerte Amazon selezionate fra le migliaia disponibili, anche e soprattutto in questi periodi di forti sconti. Non perdere l'occasione di ricevere le migliori offerte in tempo reale. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Questo power bank di Anker è l'ideale per ricaricare in modalità wireless il tuo iPhone o altri smartphone compatibili. Il magnete integrato permette di agganciarlo al retro del telefono e i supporti pieghevoli lo trasformano in un comodo stand per lo smartphone. In descrizione vi lascio anche il link per tutto il catalogo Anker, dove troverete molti altri prodotti interessanti, tutti scontati per le offerte di primavera, fra cui caricatori, cavi, speaker, accessori PC e altro ancora. Il trapano avvitatore della Oto che vi presento ora offre ottime prestazioni e un design accattivante. Integra una tecnologia avanzata che di solito non si trova in questi strumenti. Abbiamo anche un display e la possibilità di regolare la coppia e scegliere fra due modalità disponibili. Davvero un oggetto del desiderio che attualmente gode di un ottimo sconto rispetto al suo prezzo mediano. Questa lampada led da scrivania integra tre barre luminose e un pannello di comandi a sfioramento dove è possibile regolare la luminosità e la temperatura del colore, oltre che attivare il sensore ambientale che regolerà automaticamente l'intensità della lampada. Si adatta a moltissime situazioni ed è in grado di illuminare in modo uniforme scrivanie fino a 200 centimetri. Ecco anche una striscia led rgb della Gobi. È lunga 5 metri con connessione wifi e applicazione dedicata per il controllo dal telefono. È possibile scegliere fra 16 milioni di colori e nelle funzioni troviamo anche la sincronizzazione a tempo di musica e la compatibilità con Alexa e Google Smart Home. Per queste offerte di primavera raggiunge un prezzo minimo storico. Ibo Air è un piccolo robot dotato di videocamera e intelligenza artificiale, in grado di interagire con membri della famiglia, animali domestici e di sorvegliare la casa girando per le stanze e inviando notifiche sul telefono in caso di rilevamenti sospetti. In più offre molte altre funzioni interessanti come l'interfono, la possibilità di guidarlo manualmente, di impostare promemoria e altro ancora. Anche lui si trova a un prezzo minimo storico per queste offerte. Marshall è un'icona nel settore audio e in questo piccolo altoparlante bluetooth racchiude tutta la sua esperienza, dando vita a un prodotto di alta qualità da portare sempre con sé. È costruito per resistere agli urti ed è impermeabile con certificazione IP67. Questo gadget molto utile è una luce posteriore per bicicletta. Si installa facilmente ed è ricaricabile tramite USB. È resistente alle intemperie, compatta e offre quattro modalità di illuminazione, fra cui una modalità dove sfrutta un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità in base all'ambiente. È della Olight, un'azienda specializzata in torce di qualità. Qui sotto in descrizione vi lascio il link al loro catalogo dove potete trovare molte altre torce portatili di diverso tipo e che coprono tutte le esigenze. Attualmente le trovate tutte scontate per le offerte di primavera. La sicurezza in casa è un tema delicato e molto importante. Con questo kit di videosorveglianza potete prendere due piccioni con una fava. Infatti include già due videocamere da esterno della Blink e anche il modulo di sincronizzazione. In questo modo è possibile videosorvegliare un'ampia area esterna privata, come ad esempio un giardino o un cortile. Per queste offerte il kit lo pagate la metà. Trovate scontati del 50% anche i sistemi a una, tre e quattro videocamere. Ecco anche un compressore portatile a batteria ricaricabile della Bosch. Ottimo per gonfiare le ruote della bicicletta ma non solo. Infatti può gonfiare anche pneumatici di auto e altri oggetti gonfiabili come palloni, materassi e altro del genere. Infine vi propongo un'ottima ciabatta elettrica smart della Meros. Si connette tramite rete wifi all'applicazione dedicata, dalla quale possiamo controllare le singole prese elettriche e il gruppo di quattro porte USB. È possibile utilizzare la funzione timer, impostare vari scenari dall'applicazione, ed è compatibile con Alexa e Google Home. E anche qui abbiamo un ottimo affare grazie alle offerte di Primavera Amazon. Mi raccomando vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte selezionate potete farlo comodamente dai link che trovate qui sotto in descrizione. Non dimenticarti di iscriverti al canale Telegram, da dove condividiamo le migliori offerte Amazon selezionate fra le migliaia disponibili, anche e soprattutto in questi periodi di forti sconti. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione.